Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo video di HV, e oggi faremo una gara di tuffi, io conto il cameraman, ciao cameraman, inizio io con il tuffa bomba. 3, 2, 1, mettete un botone 0 a 10, postate i commenti, adesso sto pensando a me, adesso faremo il tuffo a capolone, qua partiamo le schienate, le schienate, pazzesche, pazzesche, 3, 2, 1, bella schienata, una bella schienata, adesso tocca il cameraman, guarda, guarda. Oh mamma mia ragazzi, che schienata, adesso il tuffo di testa. E' un po' di testa, perfetto, io gli darò un bel 9, anche voi, datemi il 9. Bene, ora facciamo il tuffo di testa, perfetto, io gli darò un bel 9, anche voi, datemi il 9. E per oggi è tutto, ci vediamo in un nuovo video Ciao